Paolo Grossi è il nuovo tassello che va ad aggiungersi al Mosaico Amaranto per la stagione 2016-2017. Una trattativa complessa al termine della quale il trequartista classe 1985 ex Ternana ha accettato di scendere di categoria e vestire la maglia dell'US Arezzo. Il progetto è importante, me l'hanno confermato questi primi giorni che sono qui. Il direttore sta molto bravo a insistere, il mio unico dubbio, ripeto, non era nella città, nella piazza perché non c'è nulla da dire ma era solo un discorso di categoria, però poi ho accettato e ora sono ben felice di essere qui. Chiare le idee di mister Sottili che vede Grossi ricoprire il ruolo di trequartista nel modulo 4-2-3-1. Un po' un ritorno all'origine perché io nasco lì parlando col mister e c'è un'intenzione di farmi giocare lì, però in un 4-2-3-1 posso ricoprire tutti e tre i ruoli dietro la punta. Grossi dunque alle spalle di Moscardelli per un binomio che fa già sognare i tifosi Amaranto. È stato anche questo un motivo che mi ha convinto a venire qua, non vedo l'ora di iniziare e sicuramente daremo il massimo 8-2 per fare il meglio per questa squadra. Con la firma di un contratto biennale Grossi ha sposato in pieno il progetto dell'Arezzo. Sicuramente l'Arezzo entra in campo per vincere tutte le partite, poi il calcio è fatto di tante cose e si vedrà quel che succederà.